Continua il percorso di Confartigianato Vicenza a sostegno degli istituti tecnici superiori con azioni di collaborazione e sinergia coinvolgendo studenti e aziende. Gli ETS in Veneto sono nove e consentono la specializzazione in diverse aree tematiche considerate strategiche per la crescita e lo sviluppo del paese. Ai microfoni di impresa diretta l'assessore regionale Elena Donazzan che ha fatto visita ai ragazzi del corso Marketing Manager dell'ITS Red. Sentiamo. L'obiettivo alto è quello di aiutare le nostre imprese a continuare ad essere competitive a partire dalla nostra vera materia prima, la più importante, il capitale umano. Per fare questo e per raggiungere questo obiettivo lo strumento dell'alta formazione terziaria quindi parallela all'università che è quella degli ITS Academy sta rispondendo perfettamente. Perché? Perché all'interno ha due ragioni vere di successo. La prima è che la fondazione ITS e ogni corso devono necessariamente hanno il coinvolgimento delle imprese e aggiungo delle imprese migliori, quelle che decidono che oltre al perimetro interno vogliono guardarsi attorno, vogliono ragionare, vogliono costruire, vogliono coprogettare. L'altra ragione è quella di avere una, diciamo, un'alternanza molto spinta. 50% delle ore sono in impresa, 50% delle ore sono all'interno non solo di un'aula ma di laboratori molto efficaci e di un modo di lavorare tra scuola e lavoro di altissimo livello. L'impresa artigiana oggi è chiamata ad una sfida ancora più grande perché è una terzista obbligata. L'impresa artigiana oggi è il valore di una lunga filiera che è spesso molto legata al territorio molto circoscritta. Oggi l'impresa artigiana è uscita soprattutto quando parliamo di manifatturiero, è uscita dall'immagine un po' romantica che abbiamo di un laboratorio così fatto solo di intelligenza nelle mani. Qui oggi c'è molto digitale, c'è molta relazione esterna, c'è molta intrapresa e soprattutto c'è una filiera che è internazionalizzata tutta. È molto pratico, c'è l'entrata dentro un'impresa artigiana come entrare in una multinazionale tascabile. Oggi quel giovane che si misura con l'impresa artigiana non è un pezzettino del percorso, è l'intero e quindi sviluppa la testa ancora prima che la sua capacità di fare. E per imparare a fare è importante cominciare a mettersi in contatto e lavorare concretamente con le aziende, come sostiene la direttrice della fondazione ITS Red Academy, Claudia Nizzola. I ragazzi degli ITS lavorano moltissimo con le aziende. Già dallo scorso anno con Confartigianato abbiamo attivato il progetto Speed Up in collaborazione con la Caffoscari di Venezia e il corso di Vicenza del Marketing Manager ha portato avanti la collaborazione con due aziende artigiane per le quali ha studiato la parte di marketing con un progetto di design thinking. Questo fa parte del nostro modo di lavorare perché i ragazzi devono acquisire competenze lavorando. Quest'anno abbiamo voluto ripetere questa esperienza, la professoressa Cabion ha proposto l'azienda Venzo e si sta realizzando una bellissima collaborazione, i ragazzi sono molto soddisfatti, spero anche l'azienda del lavoro che è stato fatto perché hanno ricevuto una vera e propria commessa. Quest'anno questi ragazzi del secondo anno che stanno concludendo il corso che finirà a giorni hanno già sviluppato un'esperienza ad Asiago in cui hanno studiato un albergo, un albergo residenza dal punto di vista dell'efficienza energetica assieme agli altri studenti degli altri nostri corsi e sull'arredamento e sul marketing. Poi hanno seguito un secondo workshop qui in sede invece immaginando di far partire una startup e questo è il terzo workshop che fanno quest'anno dove hanno proprio incontrato l'azienda vera e propria che ha assegnato una commessa a loro. L'azienda artigiana piccola permette ai ragazzi di affrontare argomenti che possono riguardare anche sia la produzione ma anche il marketing dell'azienda stessa e anche dare un aiuto quando magari l'azienda piuttosto piccola non si dedica molto al marketing, cosa che invece ormai bisogna assolutamente curare. Proprio di questa materia si sono occupati gli studenti del corso Marketing Manager. Abbiamo raccolto la testimonianza di Alessandro Micheletto, uno studente dell'ITS Red che ci racconta come ha vissuto questa esperienza con i suoi compagni. Siamo divisi in gruppi per competenze e abbiamo sviluppato le necessità appunto aziendali di Venzo Stampi nella chiave e nell'ottica migliore per il raggiungimento del loro scopo. Siamo andati a sviluppare la parte di logo quindi con un restyling completo del logo e una proposta nuova. Abbiamo realizzato poi il sito web, loro posseggono ancora adesso un sito vecchio e hanno manifestato l'interesse di cambiarlo quindi siamo andati a fare una proposta completamente nuova e moderna anche dal punto di vista del sito web. La prima cosa che ci siamo portati a casa è il rispetto della consegna che siamo riusciti a terminare in tempo utile e prestabilito i lavori che dovevamo svolgere e un'altra cosa che ci servirà molto anche in futuro è il fatto di aver finalmente lavorato con un'azienda reale. Inizialmente è stato complesso perché abbiamo dovuto appunto confrontarci con un qualcosa di nuovo ma dopo una prima fase di organizzazione siamo riusciti a capire e un attento studio siamo riusciti a capire cosa era meglio per il settore che riguarda Venzo Stampi. L'esperienza all'interno dell'azienda è un'occasione per noi giovani di conoscere appieno il processo produttivo che sta dietro delle aziende che magari a noi sono sconosciute e ci dà la possibilità appunto di confrontarci con un qualcosa di nuovo. Si può dire che è stata un'esperienza assolutamente gradevole perché riusciremo a vedere il nostro lavoro svolto diventare realtà quindi non più delle esercitazioni fine a se stesse che rimangono in classe ma finalmente un lavoro che potrà essere utile a un'azienda vera e propria. I ragazzi non sono il futuro sono il presente lo sostiene ai nostri microfoni il titolare della Venzo Stampi Sandro Venzo. Ma diciamo che per noi è stata un'esperienza nuova avere questo gruppo di ragazzi in azienda ci ha dato una carica bella perché alla fine avere questa contaminazione con questi ragazzi che per la prima volta si approcciano al mondo dell'impresa diciamo che sono state delle cose interessanti sia per noi che per loro quindi una cosa positiva che auspico venga fatta anche con altre imprese quindi ben vengano i ragazzi delle aziende anche perché io continuo a dire che non sono il futuro ma i ragazzi sono il presente. Abbiamo già visto alcune cose interessanti e spero proprio che questo possa avere un proseguo. Diciamo che con questo gruppo è stato molto facile perché si sono trovati davanti a una realtà che non si aspettavano quindi forse anche più concreta di quello che avevano nell'immaginario quindi un'esperienza molto positiva.